Ciao Omar, piacere Antonio, benvenuto all'Empore Armani Building Dialogues. Grazie. Qual è il consiglio più importante che hai ricevuto? Credo che il consiglio di essere qui, qui, qui o qui è probabilmente il migliore consiglio che mi hanno dato. Che consiglio daresti alle nuove generazioni che sperano di realizzare i loro sogni? Che vanno a per loro. Io sono una persona che generalmente credo poco nel consiglio, perché credo che quando ti dà un consiglio generalmente ti posiziona in un lugar moral superior a la persona a la che lo stas dando o quando qualcuno ti pide un consiglio si pone in un lugar inferior che tu e ti observa da sotto. Non mi suele gustare il consiglio. Aún così, se tu hai un sogno, devi andare a per lui. E nel senso più disney di la parola, però nel senso più pragmatico di lei, che è curratelo tutti i giorni, sia lo che sia. Grazie mille, Omar, per essere stato qui. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.